4 grandi opere ferroviarie con un investimento di 200 milioni di euro per rendere la Toscana sempre più competitiva attraverso il collegamento tra i porti toscani e i grandi corridoi ferroviari europei del trasporto merci. Tutto questo sarà possibile entro il 2021. È questo il senso dell'accordo per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio scandinavo-mediterraneo tra le opere e lo scavalco ferroviario che collegherà il porto all'interporto di Livorno. Con questo protocollo si sancisce il fatto che RFI svilupperà il progetto sino all'esecutivo per la realizzazione dello scavalco di collegamento tra il porto di Livorno e l'attuale interporto di Livorno destinato a diventare sempre più un retroporto. Ma poi è quello che viene dopo quindi il collegamento con l'interporto di Guasticce con la linea con le Salvettivada e poi via Firenze raggiungere Bologna e quindi il nord dell'Italia e dell'Europa attraverso le gallerie tra Prato e Bologna che in tre anni adegueremo alle sagome a standard europeo. Anche il porto di Piombino rientra nell'accordo perché ne prevede la revisione dei collegamenti con quello di Livorno in modo che anche questo scalo marittimo sia meglio collegato ai grandi corridoi europei. Il costo dello scavalco è di 23 milioni e 800 mila euro. Io sono certo che possiamo giocarci una partita competitiva sui porti di Piombino e di Livorno, davvero straordinario. Nessuno ha un retroporto come quello che possiamo vantare noi se lo attrezziamo. Noi mettiamo 17 milioni, ferrovie dello Stato e il Ministero mettono gli altri 5. L'intervento chiave per rendere possibile tutto ciò è rappresentato dall'adeguamento delle gallerie dell'Appennino Tosco-Emiliano presenti lungo la linea Prato-Bologna.